Dall'inizio del 2018 ad oggi sono state più di 56.000 le persone identificate dalla Polfer di Piemonte Valle d'Aosta, 215 le stazioni in cui ogni giorno vengono effettuate le verifiche della polizia sui passeggeri dei treni e in transito nelle stazioni e poi vi sono i controlli dei depositi e le scorte sui treni per garantire la sicurezza dei passeggeri. Circa un terzo delle persone controllate erano stranieri. In tutto sono stati 458 gli indagati e 25 gli arrestati, 29 i minori rintracciati perché denunciati come scomparsi, 532 le contravvenzioni elevate sia per violazione al regolamento della polizia ferroviaria che al codice della strada, 26 invece sono stati i provvedimenti di allontanamento dalle stazioni nei confronti di persone moleste che con il loro comportamento ostacolavano la libera fruizione del servizio ferroviario agli utenti. Per alcune di esse i questori hanno emanato d'aspo urbani. La polizia comunica che grazie a questi controlli i furti ai danni dei viaggiatori sono in calo ma per evitare i furti durante il viaggio occorre sempre la massima attenzione soprattutto durante gli spostamenti dei bagagli, l'acquisto ai distributori automatici di biglietti e il prelievo ai bancomat della stazione oppure quando si usa il cellulare. Non bisogna poi lasciare bagagli incustoditi non solo per prevenirne il furto ma anche per evitare che venga scambiato per un oggetto sospetto. Non bisogna inoltre farsi distrarre da sconosciuti o da circostanze ed episodi che possano essere inscenati ad arte. Il fine è quello di distogliere l'attenzione della vittima. I contesti preferiti dai ladri sono gli assembramenti, le code alle biglietterie specie quelle automatiche e poi le fasi di salita e discesa dal treno. I servizi della polfora sia in stazione che a bordo treno saranno ulteriormente intensificati nei giorni dell'esodo e del controesodo di Ferragosto.